Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza ha scoperto un'azienda intenta a trattare rifiuti pericolosi senza autorizzazione in provincia di Chieti, nello specifico nel comune di Poggio Fiorito. I militari del reparto operativo Era Unavale di Pescara, in stretta sinergia con la componente territoriale del corpo dipendente dal comando provinciale di Chieti, hanno condotto e concluso una complessa attività di polizia ambientale che ha permesso di individuare a Poggio Fiorito un'azienda autorizzata solo al trattamento e alla gestione dei rifiuti metallici che tuttavia gestiva anche rifiuti pericolosi e non in assenza del previsto titolo autorizzativo. I rifiuti stoccati in aree diverse da quelle assentite e poggiati su terreno nudo privo di impermeabilizzazione rappresentavano un potenziale pericolo per l'inquinamento. Inoltre le altezze di stoccaggio superiori a tre metri erano tali da determinare un rischio concreto per la sicurezza dei lavoratori. Le indagini si sono avvalse di ricognizioni aeree effettuate dai militari della sezione della guardia di finanza di Pescara che hanno individuato dall'alto rifiuti in evidente stato di abbandono e anche la tipologia dei materiali illegamente stoccati. I successivi riscontri svolti con il supporto di militari del comando provinciale di Chieti hanno consentito di constatare l'illecito deposito di rifiuti in violazione della normativa ambientale. Il legale rappresentante della società in questione è stato deferito all'autorità giudiziaria e l'area di 3.000 metri quadri circa è stata preventivamente sequestrata con tutto ciò che era presente al di sopra di essa.